Buonasera, ciao, benvenuta, grazie, ringrazio di voi per avermi dato questa possibilità. Io sono Luciana Matarazzo, ho 35 anni e vengo dalla provincia di Bergamo, sono assistente amministrativa, sono mamma e moglie, sono solare, mi faccio stare a contatto con la gente, il mio motto è vivi e lascia vivere. Passerella! Aspetta perché qua mi segnano che il suo sogno nel cassetto è quello di fare la presentatrice, fantastico. Allora adesso te ne diamo modo, ci scambiamo ruoli, ok? Ci sai? Vai! Buonasera a tutti, siamo arrivati alla terza edizione di Mia Bella Miss e sono contenta di vedere tutta questa gente, grazie, un applauso comunque, non fa mai male. Grazie, presento la presentatrice, è Claudia Ferrari, è qui con noi. Oh, pensavo mi facesse fare la Miss, dai, va bene che non ho più l'età, però dai, ci stava. Io avrei risposto, buonasera, buonasera a tutti, mi chiamo Claudia Ferrari, sono qua, sono venuta in Roma. La mia, come si può dire, la mia aspirazione, la mia respirazione è quella di, come si dice? No, ah sì, è il sogno nel cassetto, il sogno nel cassetto è quello di trovare uno che esce pieno di sordi e mi mantiene. Grazie, passerella! Grazie, Luciana, dopo! Grazie!